In diverse occasioni gli insegnanti hanno intenzione di costruire magari un giornalino che raccolga testi, disegni, video, prodotti dai ragazzi. Ma come fare magari a costruire un giornalino che sia anche digitale e condivisibile? In questo webinar vedremo proprio questo, i passaggi pratici per realizzare un prodotto che sia armonico, ricco di pagine e contenuti di diverso tipo. Vedremo alcuni prodotti già esistenti, li smonteremo e vi proporrò le modalità per poterlo fare direttamente anche voi e con la vostra classe. Vi aspetto!